Il Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino, in collaborazione con Federmoda CNA, ha attivato in questo periodo di emergenza sanitaria post-coronavirus la produzione di mascherine chirurgiche ad uso pubblico, svolgendo attività di approvvigionamento materiali e taglio degli stessi. Le mascherine inoltre vengono igienizzate prima di essere consegnate. Giuliana Bernardoni, presidente del Consorzio Fra Imprese, ha invitato a collaborare le aziende del territorio per effettuare la cucitura e alcune hanno risposto in maniera positiva. Si auspica quindi l'avvio di nuove ed interessanti collaborazioni future.